Le borse europee chiudono contrastate con Milano che continua la sua serie positiva. Il rapporto tra euro e dollaro si attesta a 1,204, a spingere verso l'alto la moneta unica, la possibilità che il rialzo dei tassi sia più imminente. Piazza Affari guadagna lo 0,64% con il tesoro che fa il pieno nell'assa di titoli di Stato. In progresso anche Londra, più 0,19%, in rosso invece Parigi, meno 0,29% e Francoforte meno 0,59%. A Milano vendite sul comparto del lusso, Inap cede il 3,58%, Moncler perde l'1,64%, Ferragamo lascia sul terreno l'1,53%. Il rialzo del prezzo del petrolio spinge invece il comparto, in spolvero Saipem più 3,65% e Tenaris. In progresso anche il settore bancario, FCA e Pirelli dopo la cessione del suo pacchetto di azioni in medio banca. Grazie. 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 Grazie.